Sempre è uno di quei paesi al centro del potere europeo. La Germania è il paese che ospita la Banca Centrale Europea e per questo molte volte siamo andati a Francoforte a contestare con la Banca Centrale Europea che continua a pretendere soldi dagli stati nazioni, dai territori, dai popoli per salvare le banche, ma non trovano mai i soldi per salvare le persone. Tutto questo è vergognoso. Noi andremo nei prossimi giorni a contestare il G20. Il G20 è un'unione dei ministri delle finanze, dei poteri economici e dei poteri politici più potenti al mondo e per questo noi andremo a contestarli perché pensiamo che questo mondo così com'è non va bene e che l'ha cambiato, l'ha cambiato radicalmente e per farlo dobbiamo cacciare quei potenti infami come Donald Trump, come Erdogan, come gentiloni in Italia. Tutte le facce di quel potere, da quello più che si definisce democratico, da quelli più conservatori, sono tutte facce dello stesso potere che sta cercando di esprimersi e riassettare il disegno di potere che c'è in questo mondo. Non il G20, bloccheremo il G20 nei prossimi giorni ad Hamburgo e siamo qui per dirlo forte oggi. E allora siamo qui per dare la nostra massima solidarietà a questa ragazza nella speranza che i prossimi giorni sarà in piatta con noi a bloccare il G20 di Hamburgo e annunciamo anche che andremo anche noi a bloccare questo G20 di Hamburgo e per questo oggi siamo venuti davanti al Consolato tedesco per dirlo chiaro in fondo. Questa è una sospensione della democrazia vergognosa. Noi lasciamo un regalino al Consolato tedesco, gli lasciamo questa tenda qua appesa che rappresenta la tenda di quella ragazza che è stata massacrata dalla politica soltanto per le sue idee. No order, no nation, stop deportation!